cari figli ascolto le vostre suppliche e preghiere ed intercedo per voi presso mio figlio gesù che è via verità e vita figlioli ritornate alla preghiera e aprite i vostri cuori in questo tempo di grazia ed incamminatevi sulla via della conversione la vostra vita è passeggera e non ha senso senza dio perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita affinché ciascuno di voi scopra la gioia di vivere figlioli vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna grazie per aver risposto alla mia chiamata